vorrei cominciare con voi e vorrei cominciare con la senatrice Gallone cominciamo dal dal Parlamento Italiano e dunque senatrice noi ci troviamo di fronte a questa grossa opportunità a questo treno che passa e non può essere perso quindi tutti tutte le istituzioni eh dalla Commissione Europea al Parlamento Europeo a al Parlamento Italiano hanno la loro parte da fare per quanto riguarda il Parlamento Italiano lei è senatrice ed è presidente della Commissione Ambiente quali sono le prime cose per andare in questa direzione e permettere gli imprenditori che vogliano cogliere il treno dell'economia circolare del Green Deal di farlo nel modo migliore. Grazie Ri buongiorno a tutti eh insomma come ha detto lei eh dottor Po il momento è unico ed irripetibile. Il momento è unico e irripetibile ad ogni livello, livello locale, livello regionale, livello nazionale, a livello europeo e io ritengo eh che in questo momento eh la struttura del governo sia eh insomma sia si stia organizzando per rispondere agli obiettivi che ci siamo posti a livello europeo e non soltanto a livello nazionale. Secondo me eh la chiave di lettura di tutto è riuscire a far comprendere alla politica, al governo e a tutti gli attori che senza un sistema integrato di azione cioè senza una grandissima alleanza pubblico privato noi potremmo avere delle difficoltà. Eh il presidente Draghi nel suo discorso di insediamento al Senato ha detto delle parole che mi hanno colpito molto e che io tengo a mente perché secondo me sono corrette e giuste. Eh dopo questo momento così terribile di pandemia eh bisognerà sostenere imprese, aziende, attività e tutti coloro che dimostreranno di eh sapersi adattare e soprattutto di sapersi evolvere e in questo caso qui parliamo di Green Deal e del tema delle riconversioni, delle resquisse aziendali e di quant'altro. Eh quindi il tema della resilienza è già superato cioè essere resilienti vuol dire a ritornare come si era. Oggi noi dobbiamo fare ovviamente un grande passo eh più lungo che è quello di eh diventare migliori appunto per affrontare con speranza ma con determinazione e impegno appunto il tema di questa terza rivoluzione industriale eh cui lei ha fatto cegno. E quindi ci sono tutta una serie di accorgimenti che eh un governo serio non può non tenere in considerazione. A partire come dicevo dal sistema integrato ma soprattutto da un grandissimo da un gran da una grandissima rivoluzione eh che riguarda il tema delle riforme. Eh questo governo adesso sta lavorando ma lo si dovrà fare ancora di più sta lavorando eh al al tema della riforma della giustizia non contenti stiamo anche raccogliendo eh le firme per un referendum eh su una riforma ancora più complessiva si sta lavorando alla riforma della pubblica amministrazione e si sta lavorando quindi al tema della semplificazione da un lato e dall'altra parte anche al tema della dell'assunzione di nuove unità di personale competente che possa garantire alle imprese di essere accompagnate nei loro percorsi di crescita di sviluppo di innovazione di riconversione e si stanno mettendo in atto tutta una serie di riforme accorgimenti anche sul tema della formazione perché come avrete visto è abbastanza inquietante quello che è uscito ultimamente dalle prove in balsi dove i nostri ragazzi ehm hanno alle superiori un livello di preparazione pari alla scuola media e quindi si sta lavorando moltissimo sul tema degli STEM sul tema del dei nuovi percorsi eh degli istituti tecnici superiori degli ITS eccetera eccetera e nello stesso tempo bisognerà fare eh dare grandissima attenzione anche a chi oggi è rimasto eh fermo dal punto di vista della 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 eh così dell'adeguarsi alle nuove tecnologie al mondo che cambia e quindi tutto il tema della formazione. Nella fattispecie è in dubbio che il Green Deal, la transizione ecologica eh poggiano oltre che sulla transizione energetica e quindi alla sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili su l'altro pilastro fondamentale che poi il tema di oggi che è quello dell'economia circolare. L'economia circolare è sicuramente un tema complesso, è un tema dove l'Italia comunque è tra i primi paesi al mondo e quindi noi dobbiamo essere i facilitatori come dicevo prima e non mettere i bastoni tra le ruote eh per gestire questa costruzione di questo nuovo sistema. È un sistema economico quindi che ha bisogno di tempi, che ha bisogno di sostegni soprattutto per quel tessuto di di piccole e medie imprese che costituisce poi la forza dell'Italia. E quindi ritengo e ribadisco che a livello nazionale noi si debba comprendere che questo è il lavoro che si sta facendo, quali siano le criticità in questa trasformazione che il sistema produttivo eh sta affrontando e quindi intervenire eh invece nella soluzione rispetto a queste criticità. Le criticità le conosciamo, quelle che dicevo prima no? Sono il tema della della del fisco, il tema della della dell'appesantimento burocratico, il tema del governare l'innovazione attraverso la formazione, il tema anche di una fiscalità premiante e incentivante che non sia che sia vissuta come 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 spinta. Sto andando troppo lunga, mi fermo. No, le voglio fare un'altra domanda, poi prima di passare al dottor Soro dell'Unione Europea. Lei ha detto delle cose e giustamente ha inquadrato eh nel discorso del grindire dell'economia circolare anche le riforme che dovranno facilitare tutta questa realizzazione ma sono riforme da fare tra i mari polsi a cominciare da quella della giustizia. Quindi insomma sono sono pezzi da novanta che si mettono in strada. Quello che le voglio chiedere però prima di passare a Bruxelles è se lei ritiene che questo governo con questi ministeri anche dedicati rispetto a quello precedente sia la macchina giusta per andare per andare in questa direzione. Allora la macchina è quella giusta adesso bisogna fare in modo che i piloti la guidino nella maniera ideale perché eh si è creato un ministero ad hoc molto più grande che quello della transizione ecologica che non è più il ministero quindi il MITE non è più il ministero semplicemente dell'ambiente in senso lato. Ministero che ha avvocato a sé anche le deleghe eh quelle dell'energia che prima erano in capo al MISA, il Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi eh noi confidiamo che adesso si crei tra MITE, MISE, MEF e tutti gli altri ministeri cioè che il ministero della transizione ecologica diventi centrale, diventi il perno eh di una ruota i cui raggi poi sono tutte le altre tutte le altre eh sì e per quanto riguarda per quanto riguarda le commissioni parlamentari andranno riorganizzate anche quelle per esempio lei a e alla commissione ambiente sì. Io mi sto lamentando da molto tempo, da diverso tempo perché dico che la commissione ambiente alla luce della trasformazione dovrebbe diventare una commissione molto più centrale. Invece vedo sempre che noi partecipiamo soltanto spesso, non soltanto spesso eh per fornire i pareri rispetto dei provvedimenti che invece dovrebbero essere di stretta competenza. Quindi oggi va bene noi stiamo trattando il tema della rigenerazione urbana ma di fatto poi è in capo al ministro Giannini eh che è invece Giovannini scusate che è invece il ministro dell'infrastruttura. Certo no per questo glielo chiedevo. Ecco insomma. Quindi no io non smetterò io sono una rompiscatola da questo punto di vista perché ogni volta che entro in commissione mi rendo conto che determinate tematiche per noi diventano soltanto l'espressione di un parere e non siamo coinvolti in prima persona all'interno poi dello sviluppo di determinati provvedimenti ecco questo deve deve cambiare. Quindi mi conferma mi conferma che ho toccato un nervo scoperto. Sì molto almeno per quanto mi riguarda estremamente scoperto perché poi noi ci mettiamo anche insomma studio competenza ascolto è un grande valore aggiunto non possiamo essere diventare cenerentola quando dovremmo essere centrali. Importante. Passo passo adesso a Stefano Soro che eh è alla commissione europea e de capo dell'unità eh dell'economia verde e circolare. Dottor Soro eh vedo che al microfono no ecco ok. Sì sì no ci sono ci sono buongiorno. Sì sì no ehm fate le premesse che abbiamo fatto fino a questo punto con la senatrice ehm visto da a questo punto quali sono le azioni di partenza? Quali sono le tappe obbligatorie e ancora prima i preliminari per partire in questa direzione e per arrivare a questi obiettivi che eh sono ambiziosi ma che dobbiamo raggiungere? Giusto partiamo dai preliminari. Innanzitutto come ha detto adesso la senatrice Galloni Gallone scusi eh l'economia circolare è un sistema economico per cui stiamo parlando di transizione da un sistema economico a un sistema economico non stiamo parlando di fantasie ideologie eccetera eccetera eh perché lo facciamo? Diciamo che abbiamo tutti sentito soprattutto se abbiamo dei dei figli eh adolescenti o giovani lo slogan abbiamo un solo pianeta non c'è un pianeta B. Eh io cinquantacinque anni sono nato in un pianeta che aveva meno di tre miliardi e mezzo di abitanti siamo quasi otto miliardi. Se continuiamo ai ritmi attuali eh nel duemilacinquanta continueremo come se avessimo eh a disposizione tre pianeti eh si stima che il consumo di materiali e materie prime risorse come la biomassa, i combustibili fossili, i metalli e gli altri minerali raddoppierà nei prossimi trenta trentacinque anni. I rifiuti che produciamo a questi ritmi da qui al duemilacinquanta quando dovremo essere raggiungere la la neutralità in termini di emissioni di carbonio aumenteranno del settanta per cento. Ogni anno nell'Unione Europea utilizziamo ottanta gigatonnellate di materie prime che vuol dire ottanta miliardi di tonnellate di materie prime. Eh la nostra economia è ancora lineare per cui solo il dodici per cento di questi ottanta miliardi diciamo eh eh di queste di queste ottanta gigatonnellate diciamo dieci gigatonnellate ha una qualche forma di circolarità. Eh e viene riportata in qualche modo nell'economia. Eh come cittadini europei sperimentiamo queste inefficienze nella nostra vita quotidiana più o meno ogni giorno ci sono prodotti che sono che durano poco che non possono essere usati riparati o riciclati o che sono fatti per un uso unico. Eh a scala globale questo questo crea un un'impronta climatica ambientale eh gigantesca e come abbiamo visto e sto anche eh vicino eh purtroppo a casa mia eh fenomeni climatici estremi ambientale e degrado ambientale eh creano conseguenze abbastanza dure nella vita quotidiana dei dei cittadini europei. Eh ma anche se diciamo lasciando perdere per assurdo le questioni ambientali e climatiche e sarebbe comunque un errore fatale lasciarle perdere è chiaro che ci sono ragioni convincenti e urgenti per mantenere le risorse che utilizziamo e le materie che utilizziamo all'interno delle nostre economie dei nostri sistemi economici il più a lungo possibile conservando nel più a lungo possibile il valore economico. Si stima che l'uso di sistemi di circolarità eh da qui al duemila trenta potrebbe avere un impatto eh positivo eh sull'economia dello zero virgola cinque per cento del PIL e la creazione portare alla creazione di circa settecentomila nuovi posti di lavoro in Europa nei prossimi nove anni. L'industria manufatturiera nell'Unione Europea spende in media il quaranta per cento del suo fatturato in materie prime e materiali vari. Eh direi che c'è un caso un un sono degli argomenti anche economici potenti per muoverci verso una circolarità eh dell'economia ehm il più rapidamente possibile ed è questa la premessa ed è da qui che nasce il Green Deal e da qui che nasce il il piano eh d'azione sull'economia circolare e da qui che nasce il pacchetto che è stato adottato dalla Commissione Europea la settimana scorsa con quattordici proposte regolamentari che vanno dall'estensione del eh del sistema per lo scambio delle quote di emissione a a eh ecco no dottor Soro mh questi erano le abbiamo definiti preliminari ora vorrei capire anche quali sono poi eh le azioni concrete che si devono fare perché le imprese possano essere in grado di adottare eh tutti i sistemi per andare qui mi conceda una parentesi noi nel nello streaming di questo pomeriggio abbiamo ideato un sondaggio abbiamo creato un sondaggio vorremmo sapere da chi ci sta seguendo se eh ritenga che l'Italia abbia gli strumenti anche culturali per cogliere le opportunità dell'economia circolare ora lo vedete a video dovete appunto scegliere tra un sì un no e un non so la domanda è questa l'Italia ha gli strumenti anche culturali per cogliere le opportunità dell'economia circolare ecco tornando a lei dottor Soro eh l'Italia gli imprenditori italiani le piccolissime imprese così come le grandi imprese avranno gli strumenti per andare eh comodamente è giusto dire anche comunque in un modo possibile e sostenibile verso questi obiettivi beh ci sono ci sono diciamo la cosa si può vedere da due lati da un da un lato come diceva la senatrice Galloni in Italia ci sono tante eccellenze eh in termini di circolarità eh dal punto di vista delle imprese e io lo vedo più o meno tutti i giorni una delle cose di cui mi occupo è l'alleanza per la plastica circolare dove ci sono dove c'è un obiettivo di arrivare a 10 milioni di tonnellate all'anno entro il 2025 di plastica riciclata usata per prodotti nuovi e tanti protagonisti sono italiani eh richiede un cambiamento dei modi produttivi richiede un cambiamento culturale imprenditoriale eccetera eccetera quello che è importante fare dal punto di vista almeno nostro delle autorità pubbliche sono due cose uno eh fare delle regole sia ambiziose sì dure sì che ci portino verso un cambiamento del modello ma farlo in una maniera intelligente che non finisca per desertificare industrialmente l'Europa eh buttando fuori le le diciamo le produzioni inquinanti dall'Europa e finendo per delocalizzare verso paesi che producono con standard diversi dai nostri per cui le nostre regole devono essere regole che si applicano tutti i prodotti indipendentemente da dove da dove sono stati fabbricati ci deve essere una protezione c'è questo questo meccanismo nuovo contro il carbon leakage che è nel pacchetto di proposte della commissione che vuole proprio evitare questo dall'altro lato eh si parla di si sa che una delle condizioni per il successo degli obiettivi ambientali e climatici è eh mettere a disposizione in particolare dell'industria in particolare dell'industria eh energivora energia energia e in particolare elettricità decarbonizzata rapidamente e qui eh problema è un po' più serio perché per esempio in Italia al ritmo attuale eh si sta decarbonizzando l'energia diciamo a un decimo della velocità che sarebbe necessaria da qui al 2030 e poi al 2050 per cui vi da cambiare molto eh non non bisogna quindi rischiamo di arrivare al duemila e cinquanta giusto l'obiettivo del duemila e trenta a quanto dice lei no bisogna accelerare bisogna accelerare senta riprendiamo dopo nella in un secondo giro di di opinioni ora vorrei che vedessimo insieme un contributo che eh l'onorevole Patrizia Toia deputata europea vicepresidente della commissione industria e ricerca e energia ha fatto per noi per aggiungere argomenti al dibattito di oggi la regia lo può lanciare grandi cambiamenti stanno avvenendo sotto la spinta delle scelte dell'Europa una spinta legislativa ma anche una spinta di finanziamenti di programmi insomma un accompagnamento all'azione degli stati membri a partire dai PNRR questo è il nome di quello italiano ma sono i piani insomma di ripresa e di resilienza nazionali e anche sotto la spinta della grande strategia del Green Deal che proprio in questi giorni giovedì e mercoledì e giovedì ha visto una presentazione della commissione da parte del grande programma che si chiama Fit for 55 cioè come raggiungere questo ambizioso traguardo che è il primo della climate law che nasce dal Green Deal che dice che al 2030 noi dovremo avere il 55 per cento di abbattimento delle emissioni in CO2 allora programmi molto impegnativi Sibam la tassa per l'importazione di prodotti che hanno un'impronta diciamo ecologica molto molto poco sostenibile prodotti come l'acciaio prodotti in certi paesi senza le regole che noi abbiamo e una revisione delle TS un inserimento delle DS dei trasporti marittimi almeno 50 per cento si dice in parte di quelli aerei e anche delle tanti altri settori che ad oggi erano escluso parzialmente toccati e poi diciamo anche un obiettivo di vieto diciamo dal 2035 questa è la prima ipotesi della commissione per le auto col motore tradizionale e tantissime altre misure tutte sull'efficienza energetica eccetera allora perché questo grande pacchetto è così importante come Green Deal perché ci sono moltissimi investimenti e moltissimi anche sostegni per l'innovazione tecnologica dell'European Innovation Council in tutto il programma di Horizon per accompagnare questa grandissima trasformazione perché questa è la strada che l'Europa ha tracciato una strada ambiziosa e d'avanguardia nel mondo la più ambiziosa al mondo ma anche diciamo per un obiettivo che io chiamo di generosità verso le nuove generazioni perché se vogliamo salvare il pianeta è perché lo vogliamo lasciare a chi verrà in condizioni vivibili e non con una devastazione come l'attuale modello porterebbe se nessuno si fermasse e cambiasse strada, cambiasse rotta. Si dice l'Europa va troppo avanti io penso di no perché se l'Europa va molto avanti può anche mettere la sua industria in una condizione di maggiore competitività per quanto riguarda per esempio la produzione di tecnologie ambientali eccetera e poi perché io penso che tocca l'Europa fare questa battaglia come è toccato in passato su altri punti ma anche su quello ambientale e climatico nella speranza io dico nella convinzione che il resto del mondo seguirà e sarà con noi. Allora in questo passaggio oggi il tema dell'economia circolare diventa un tema che percorre un po' tutte le nostre azioni di politica industriale e di politica energetica e di politica ambientale perché è un nuovo modo di concepire la produzione e la progettazione prima ancora della produzione di concepire il modo di consumare o di riutilizzare o smaltire laddove fosse necessario quindi proprio si dice un paradigma nuovo e io penso che ci siamo già abbastanza dentro per esempio l'Italia ma ci sono qui degli esperti che lo potranno dire o l'avranno detto meglio di me ha delle eccellenze penso al settore della carta penso ad altri settori che forse ha raggiunto dei traguardi che di cui non siamo neanche tutti consapevoli che ci pongono in certi settori proprio in una in cima alla lista delle buone pratiche europee si tratta adesso di estendere questo modello non singoli comparti non singole esperienze o pluralità di esperienze ma un intero sistema che lavora in questo modo e che in ogni suo passaggio diciamo fa leva su questo concetto dell'economia circolare applicandolo concretamente penso per esempio a quanto farà adesso la commissione dopo il piano d'azione dopo anche il provvedimento del parlamento usciranno delle iniziative specifiche quella sul settore tessile che sarà molto importante importante anche per l'Italia perché è un settore di nostro interesse anche se ha avuto diverse vicissitudini quella anche della diciamo di tutti i settori delle prodotti che devono avere una sostenibilità maggiore prodotti critici e quindi una politica che attraversa tutte le nostre interventi mi piace concludendo citarne uno c'è il dottor sono che ne è uno degli estensori parlo del regolamento per le batterie io sono relatrice per il parlamento per la commissione industria lo stiamo esaminando proprio in queste settimane ecco questo è un altro provvedimento quello del regolamento delle batterie che applica il paradigma dell'economia circolare in modo molto avanzato noi dobbiamo sempre più recuperare e progettare le nostre batterie in questo caso perché siano già diciamo progettate per consentire un altissimo tasso di recupero dei materiali che le compongono questo significa appunto progettarle in un modo molto specifico pensarne già a riutilizzo tentare anche un rimaturabile cioè un cambiamento di destinazione ma sempre un utilizzo e poi recuperare i materiali e noi saremo ambiziosi in parlamento è la commissione arrestata lo saremo ancora di più alzando per esempio il livello di recupero del litio a una percentuale più alta da quella prevista dalla commissione che peraltro penso sarà d'accordo con noi nel fare questo passo avanti perché è importante questo guardate faccio uno scorcio anche un po più ampio della politica industriale europea o nazionale perché in questo modo se noi recuperiamo sempre più queste materie critiche evitiamo se le recuperiamo dagli stessi prodotti evitiamo di continuare processi di estrazione di questi minerali o materie dalla dalla terra e innanzitutto evitando una depauperazione dell'ambiente stesso e poi affrontando anche un tema che cerchiamo sempre di mettere da parte di non vedere che è in che condizioni si lavora in questi settori in che condizioni sono i lavoratori di questi processi di estrazione e quali anche complicazioni attorno si attorno si girano pensate materiali di conflitto li abbiamo chiamati materiali preziosi che si riprendono dalle miniere di certi paesi africani e che sono così preziosi che incentivano per il loro possesso la lotta tra tributo e affazioni quindi materiali di conflitto che noi usiamo per il nostro benessere quindi noi cerchiamo di fare azioni di due diligence di misure trasparenti ma quanto più riduciamo l'estrazione di queste materie io penso che facciamo non solo un bene al pianeta ma anche un bene alla dignità delle persone e a una trasparenza maggiore dei nostri processi produttivi quindi sempre più concetto di economia circolare applicato a tutti i settori fin dove possibile e sempre più diciamo un percorso convinto dell'Europa su questa strada del green deal e di tutta la politica ambientale oggi è fit for 55 domani saranno altri provvedimenti ma insomma questa è una strada tracciata che l'Europa vuole percorrere con coerenza grandi ecco io prima di riprendere questo era un contributo registrato che qualche giorno fa la deputata patrizia toia parlamentare europea di della commissione industria ricerca energia ci ha ci ha regalato ci ha dato per questa come contributo a questa discussione prima di passare a eleonora evi e eleonora rissuti io rissuto vorrei ricordare agli ascoltatori a chi ci sta seguendo in diretta streaming in questo momento che sono invitati a mandarci loro domande loro quesiti che eh io poi proporrò ai nostri ospiti per il prossimo giro che faremo passiamo alle due eleonore e l'onora evi è deputata europea della commissione ambiente sanità sicurezza onorevole più volte è stato citato il discorso ambientale soprattutto eh il dottor Soro eh parlava anche dei disastri ambientali che lui vive da vicino essendo a Genova ma che soprattutto abbiamo visto eh per quanto riguarda la Germania in questi giorni e quindi da qui vorrei partire anche per una sua valutazione per quanto riguarda ciò che è stato fatto ma soprattutto che cosa dobbiamo fare ora per mettere il rewind per tornare passo indietro eh decisamente i fenomeni atmosferici che abbiamo visto eh in Germania ed in Belgio anche che si sono abbattuti con una forza inaudita sono credo soltanto l'antipasto di quello che arriverà in seguito purtroppo e che sono appunto la manifestazione concreta di quelli che di quello che comunemente chiamiamo cambiamento climatico che invece va chiamato con il suo vero nome ovvero crisi climatica perché una vera e propria crisi quindi misure emergenziali ora devono essere messe in campo per affrontare questa crisi che è una crisi che porta con sé altre crisi la la crisi gemella che non va mai dimenticata è la crisi di perdita di natura e di biodiversità che eh deve essere affrontata con altrettanta frequenza e coraggio e poi la crisi di inquinamento l'inquinamento che purtroppo soprattutto eh in alcune aree del nostro vecchio continente ma anche in moltissime altre aree del globo e del pianeta sta avendo effetti divastanti e sono crisi che portano ulteriori crisi e ferite sociali soprattutto economiche e generazionali eh appunto come già si diceva prima quindi è in dubbio che la l'Unione Europea si debba dotare oggi di strumenti di piani di programmi che siano coraggiosi e sufficientemente eh ambiziosi io eh ritengo che purtroppo la legge europea sul clima che era il primo momento in cui tradurre in maniera ehm giuridicamente vincolante in che una vera e la vera e propria architrave del green deal europeo eh noi come eh verdi europei abbiamo infatti ehm eh manifestato la nostra contrarietà rispetto a questa legge perché non è sufficiente perché le le misure che ci stiamo dando ci purtroppo sembrerebbero portarci verso quel famoso aumento di temperatura di due tre gradi e questo ovviamente è un un rischio che non possiamo permetterci di correre e infatti la scienza eh era ehm eh un anime nel chiedere maggiore coraggio da parte dei decisori politici e infatti chiedeva una riduzione di gas a sera al duemilatrenta maggiore più coraggiosa quindi non di almeno il cinquantacinque per cento ma del sessantacinque per cento infatti il Parlamento europeo tutto aveva eh cercato di difendere una posizione più ambiziosa del sessanta per cento al duemilatrenta. Oggi ci troviamo con questa percentuale eh che ehm deve essere quindi ora tradotta con quelle famose quattordici proposte legislative nell'ambito del pacchetto fit for fifty five e che eh io mi auguro saranno appunto all'altezza e già ho visto alcune cose che eh come dire ma non è questo il 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 momento e il il luogo in cui discutere del pacchetto fit for fifty five nel nel in particolare ma sicuramente penso una nota la voglio dire l'ambizione eh data sulle eh produzione di energia rinnovabile non è sufficiente io credo avremmo potuto puntare già al duemilatrenta una percentuale maggiore non del quaranta per cento di produzione di energia rinnovabile ma puntare a di più perché molti studi ci dicono che già oggi è eh tecnologicamente fattibile ed economicamente fattibile puntare mirare a essere un continente cento per cento rinnovabile al duemila quaranta ma se al duemilatrenta siamo fermi ancora al quaranta per cento non stiamo facendo secondo me quel passo in avanti necessario venendo al al tema dell'economia circolare che eh è sicuramente cruciale perché è veramente una trasformazione della nostra economia che deve essere portata avanti in chiave finalmente circolare per abbandonare il modello fossile e lineare beh indubbiamente ehm da parte della commissione europea soprattutto nell'ambito del piano di azione sulla sull'economia circolare che ora vediamo come si estrinsecherà in proposte legislative concrete quindi vincolanti ehm andrà a ridisegnare eh questo importantissimo settore mi sento di dire da subito che l'Italia nonostante abbia eh sicuramente come già ricordato prima eh possa ritenersi in cima alla classifica per quei paesi eh in Europa che fa meglio eh sul tema dell'economia circolare sta rischiando di gettare al vento eh opportunità incredibili messe a disposizione con il Next Generation EU con il eh con il piano di ripresa e resilienza perché eh questo è un dato soltanto l'un il l'un per cento del totale di risorse viene dedicato di fatto all'economia circolare quindi a al al rinnovare il modello produttivo industriale e quindi due miliardi sono veramente pochi e eh inoltre all'interno dal mio punto di vista nelle misure eh che vengono messe eh che vengono proposte eh non c'è quell'attenzione che dovrebbe essere posta a quelle parti di prevenzione nella creazione dei rifiuti e quindi appunto la riduzione, la prevenzione, la riparazione eh eh che che avrebbe che dovrebbero essere appunto eh prioritarie mentre invece viene dato a spazio ad esempio a pratiche come il riciclo chimico che è un qualche cosa che può essere fatto bene ma anche fatto molto male. Ecco lei m'ha detto e la cosa mi ha molto rincuorato che l'Italia è avanti avanti anche rispetto a molti degli altri ventisette. Sì ehm lei è in grado di sostenere che anche sul fronte dei rifiuti siamo in una buona posizione. Beh è un dubbio che in base all'indice di circolarità eh noi come paese abbiamo delle performance buone e sicuramente migliori anche rispetto ad altri paesi in particolare sul riciclo eh e sull'uso delle materie riciclate. Questo quindi sono appunto ehm come dire dati importanti da cui partire ma perché denotano anche la nostra capacità eh produttiva nel eh aver colto prima di altri forse appunto eh questa questa particolare potenzialità dell'economia circolare. È indubbio che sulla gestione del rifiuto ma è importante anche qui secondo me capire bene che quando parliamo di rifiuti di eh quando parliamo di economia circolare non si parla dei rifiuti solidi urbani solamente che è uno dei temi sicuramente di su cui c'è da fare moltissimo lavoro eh in tutta Italia ma questo lavoro io mi auguro non deve essere fatto eh ad esempio costruendo nuovi incineritori come ho appena scoperto in regione Piemonte si vuole fare ecco questo sarebbe gravissimo nel duemila e ventuno pensare di progettare nuovi incineritori in un'area quella del bacino padano che già soffoca letteralmente per la qualità dell'area che è assolutamente scarsissima anzi è un pericolo rischio per la salute. Lasciatemi a questo punto passare alla presidente dell'associazione per lo sviluppo dell'economia circolare che è Eleonora Rizzuto. A lei buongiorno di nuovo ehm a lei vorrei chiedere innanzitutto ehm tornando a quello che le imprese possono e devono fare da questo punto di vista qual è il percorso che è richiesto alle aziende per adeguarsi a questo nuovo percorso di sostenibilità e di economia circolare quindi quale percorso e quali strumenti legislativi occorrono anche perché eh appunto la l'onorevole Evi ci diceva aspettiamo delle proposte legislative concrete. È una domanda molto molto complessa questa. Cercherò di dare una risposta anche non ripetendo quello che appunto il i relatori che mi hanno preceduto hanno ben detto. Allora ehm sono stati citati tanti argomenti che riguardano il modello circolare. È stato anche detto che l'Italia è a primi posti per quanto riguarda un indice di circolarità. È stato detto è stato fatto l'esempio delle plastiche e così via. Allora questi sono tutti spunti eh interessanti e veri che però mi portano a esprimere una una riflessione che vorrei condividere con voi e con chi ci sta ascoltando che allora un'impresa dalla grande alla media alla piccola quindi per il momento non faccio distinzione poi faremo una distinzione doverosa richiede un termine brutto utilizzo insomma ma lo voglio utilizzare per rendere l'idea la famosa messa a terra nel senso che non parliamo di norme perché le norme esistenti ci sono potrebbero essere sicuramente migliori potremmo abbassare il tasso di burocrazia per accedere ad esempio alla semplificazione da rifiuto a sottoprodotto ora dirò cose che gli altri relatori naturalmente padroneggiano li cito solo come come spunti di riflessione ma spesso e devo dire che su questo non siamo i primi posti anche l'Europa però ecco parliamo del nostro territorio il nostro paese manca il processo allora se un'azienda decide di mutare il proprio modello economico e questo solo dicendo muto il mio modello economico è già una rivoluzione perché non bisogna essere economisti per capire che per far questo bisogna stravolgere completamente il modello produttivo completamente il rapporto tra il modello produttivo gli enti locali il comune dove insiste un'impresa poiché quello che abbiamo oggi come sistema è un sistema che si lega ad un'altra era quindi se vogliamo seriamente concretamente passare ad una nuova era dobbiamo cambiare l'approccio operativo ecco questo è quello che diciamo mi sento di dire avendo a che fare con con tante imprese durante la mia giornata anche come associazione naturalmente è la richiesta fondamentale faccio un esempio pratico se decido e qualcuno ha ricordato la terribile la chiamo terribile perché saranno dolori per le nostre imprese il tessile stato citato dal primo gennaio 2022 nessun capo del non utilizzato o del non venduto potrà essere incinerito allora la domanda è siamo pronti a una cosa di questo genere la risposta è no non siamo pronti perché dovremmo avere un apparato di processi tale da poter consentire alle imprese di sapere cosa fare allora quello che mi preme dire oggi è va bene tutto quello che facciamo commissioni studi agevolazioni stessa faccio parte della commissione finanza per l'economia circolare presso un ministero faccio parte una commissione confindustria benissimo studiamo miglioriamo ma facciamo allora quello che potremmo fare e quello che ci chiedono le imprese ad esempio è quello che facciamo per le per le singole imprese che che lo chiedono cioè una facilitazione nella transizione verso il modello di economia circolare oggi ci servirebbe una un ente una unità politica in questo paese tale che sia in grado di dialogare con il mese con il ministro dell'ambiente della transizione ecologica con quello della delle infrastrutture e quant'altro per poter facilitare perché gli strumenti spesso ce li abbiamo non abbiamo la possibilità a volte operativa per metterli in campo e questo è una lamentela diciamo non solo ad opera delle qui dico il dettaglio delle piccole e medie imprese da parte del piccolo che non ha a volte anche il diciamo la forza finanziaria per poterla attuare oltre che le conoscenze ma anche dai consumatori rendiamoci conto che oggi la comunità dei consumatori ci metto anche i giovani hanno una bassissima propensione al mettere in pratica il modello dell'economia circolare guardi le faccio subito una domanda comincio con le domande che sono che stanno arrivando da parte di chi ci sta seguendo in streaming e luca pone una domanda che è giusta per lei cioè quali sono i benefici di medio periodo per le imprese che adottano una transizione ecologica e circolare allora la prima che mi viene in mente e anche qui badate occorre una facilitazione un coordinamento una regia è quello di avere materie prime a un costo più basso faccio l'esempio dell'acciaio l'acciaio non è solo il caso IVA l'acciaio è il caso della materia prima che ha dei prezzi alle stelle perché il mercato mondiale determina questo una la possibilità di avere un maggior mercato non c'è neanche il mercato oggi c'è un mercato ridotto c'è il mercato ma c'è un mercato ridotto dell'acciaio riciclato ma avere un accesso migliore anche informatizzato digitalizzata questa materia prima consentirebbe agli imprenditori che operano nel settore siderurgico ad esempio ma anche in altri settori dove utilizzato l'acciaio di accedere a una materia prima ad un costo inferiore e naturalmente non consideriamo gli impatti ambientali di questo cioè comunque l'uso delle risorse chi mi ha preceduto lo ha ricordato quindi sicuramente quello del costo che cosa diciamo anche diciamo l'associazione che rappresento oggi spesso quando vediamo eh auditi da anche da da forze politiche è quello di pensare che il modello circolare non può soggiacere purtroppo di quaimè a modelli liberisti perché perché nelle transizioni guardiamo anche il modello che ne si hanno altri effetti della diciamo dei trecento secoli che ci hanno precedute nelle transizioni economiche ha bisogno di una come dire di un di un aiuto che può essere agevolazione di legge ma anche fiscali per un periodo anche a tempo determinato due anni tre anni in cui un'azienda possa avere ad esempio una abbassamento dell'IVA nei prodotti che mette sul mercato tale che chi compra il prodotto che è eh rispondente ai dettami di economia circolare non sia penalizzato troppo rispetto ai prodotti consueti. Allora ripeto il modello è olistico non esiste un settore che ne è immune purtroppo per fortuna. Passiamo ad un secondo giro di interventi ci rimangono quindici minuti da qui alle sedici quando ci lasceremo quindi chiedo a voi quattro ospiti di ehm di di fare interventi più brevi. Io a questo punto ehm ricevo un'altra domanda che è un attimo che la sto leggendo il PNRR il Piano Nazionale di eh resilienza e rilancio quanto e come spende per l'economia circolare. Chi meglio della senatrice Gallone può risponderci a questo punto tornando in Italia? Beh insomma il il PNRR per l'economia circolare e per la missione quella dedicata al Green Deal spende molto nel senso che quasi tre quarti del di quanto di quanto dedicato eh da questo chiamiamolo indebitamento virtuoso nel senso che io dico che se noi lo spenderemo bene come si è detto qua insomma il problema è spenderlo bene non sarà più un indebitamento ma potrebbe essere un investimento cioè quell'indebitamento virtuoso che nelle aziende si chiama leverage cioè che crea poi la reddittività e e quindi quello è importante ma come dicevo prima il PNRR dovrà spendere e spenderà molto ad esempio adesso con il sostegno bis eh che andremo ad approvare eh definitivamente a mercoledì al Senato noi abbiamo anche ehm destinato sessanta milioni di euro proprio a cercare di calmirare un po' i prezzi delle materie prime che era il problema che si diceva prima perché addirittura ci sono c'è il tondo di cemento ormai insomma ci sono delle materie addirittura che sono aumentate del centodiciassette per cento. Questo da un lato sta a significare l'importanza dell'economia circolare per un paese come l'Italia che ovviamente è a scarsità di materie prime e come comunque in questo momento lo Stato deve intervenire per cercare di frenare questa situazione che è un vero e una vera e propria speculazione sul mercato soprattutto nel campo dell'edilizia che è un campo che sta finalmente eh rimettendo in movimento ma ovviamente con la difficoltà eh del reperimento eh delle materie prime. Eh e poi il tema del dell'utilizzo dei fondi del PNRR per eh per per tutto il tema del del green eh sarà eh determinante rispetto alle finalità per cui verrà utilizzato e quindi come dicevo prima incentivi incentivi premialità sostegno alla formazione ecco queste sono sono i campi fondamentali e soprattutto grande grande ripeto grandissima premialità per le aziende che si vanno a riconvertire perché di fianco però c'è un altro tema quando prima si parlava il tessire non potrà portare un incenerimento eccetera si apre la grande voragine non abbiamo tempo nel senso così io mi taccio poi magari lo dice qualcun altro degli impianti perché in Italia purtroppo c'è il grande tema del 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 dell'effetto nibi cioè not in my backyard cioè benissimo ci vogliono gli impianti ma non devono essere vicini a casa mia perché possono crearmi disagio e questo è un altro tema il 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 recovery il il piano nazionale di ripresa e residenza dovrà essere molto molto utilizzato per la realizzazione di nuovi impianti che oggi ricordo sempre sono tecnologicamente avanzati senatrice si è arrivato un'altra considerazione vorrei porre a lei che mi sembra la persona più adatta nel panel di oggi c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice non mi danno il nome dalla regia che chiede non sarà che la politica si sta muovendo non per reale convinzione ma solo perché stanno arrivando all'età del voto i giovani che sull'ambiente hanno idee spesso molto diverse dalle attuali classi dirigenti è firmata andrea le dico una cosa la velocità della luce io sono stata in senato anche nella sedicesima legislatura in commissione ambiente in quel tempo io presentai un disegno di legge per le gite a carattere ambientale cioè io destinavo avrei voluto realizzare un fondo per le scuole che portavano i ragazzi in gita e durante la gita per due ore avrebbero dovuto pulire sentieri o monumenti eccetera eccetera nel 2008 fui crocifissa su questa questione crocifissa dicendo ci porti sua figlia a portare a pulire i sentieri ci porti sua figlia a fare queste cose io spero che la mentalità stia profondamente cambiando che la cultura sia profondamente cambiando e probabilmente la politica cambia in virtù del fatto che i giovani ci lanciano nei messaggi io spero in questo cioè da questo punto di vista in maniera virtù non il contrario non la politica cambia per seguire un'onda rispetto al voler prendere dei voti e forse per una volta stiamo ascoltando grazie tutto chiaro ho dieci minuti e tre ospiti ancora cui dare la parola ritorno a stefano soro dalla commissione europea e con con lei soro vorrei riprendere la considerazione che mi sembra evi stesse facendo cioè se lei non ritenga possibile andare oltre il 40 per cento delle rinnovabili per il 2030 insomma di di avere un po più di vantaggio in questa in questa corsa al microfono chiuso come dicevo prima guardi sarebbe bello sicuramente se fosse possibile l'italia al momento si sta decarbonizzando al 10 per cento a un decimo della velocità necessaria per raggiungere gli obiettivi attuali c'è un altro problema che un altro aspetto che sono è assolutamente fondamentale che forse ho un po' trascurata nella presentazione precedente l'europa l'unione europea conta per il 10 per cento delle emissioni globali il 90 per cento se non facciamo le nostre leggi per bene non andiamo a toccarlo anzi esportiamo produzioni verso paesi che come diceva l'onorevole toia hanno standard ambientali e di diritti umani perché la sostenibilità non è solo la sostenibilità ambientale è anche la sostenibilità sociale e non facciamo un favore all'ambiente non facciamo un favore ai nostri standard di vita non facciamo un favore all'ambiente dobbiamo fare regole che abbiano un impatto anche a livello globale l'unione europea è un mercato inevitabile per chiunque voglia operare a livello globale e i nostri standard sono un modello di regolamentazione anche ambientale se noi un esempio un esempio anche riferendomi a quello che diceva la dottoressa Rizzuto prima uno dei grandi successi adesso un po' sorpassato ma resta un modello della legislazione sui prodotti in Europa è la storia dell'ecodesign e dell'etichettatura energetica con questo modello siamo riusciti dando incentivi ai consumatori e incentivi ai migliori produttori a ridurre l'impatto ambientale di dell'uso di una serie di oggetti di usi comuni dal frigorifero alla lavatrice alla lavastoviglia al phon alla televisione eccetera questo è un modello che ha avuto un impatto non solo in Europa ma ovunque sia ovunque siano prodotti questi prodotti che poi vengono messi sul mercato nelle nostre case ed è stata copiata in tutto il mondo senta noi stiamo parlando dell'Europa dell'unione europea ma nel mondo poi ci sono gli Stati Uniti la Cina e Sud America e tutto il resto eh immagino che sia opportuno andare avanti. Le emissioni non si fermano ai confini dell'Europa. Quello volevo dire e quindi quale sintonia o sincronia si può trovare con con le altre realtà extra europee? Beh bisogna parlare con 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 tutti in particolare con i nostri alleati naturali per cercare di adesso uso una parola un po' forte imporre un modello che fa sì che la produzione e i prodotti abbiano certe caratteristiche. Abbiamo noi questo potere contratuale di. Siamo un mercato come dicevo prima siamo un mercato inevitabile per chiunque voglia operare vendere prodotti eccetera eccetera. Non siamo un mercatino piccolo in cui dice vabbè questi sono pazzi arrivederci e grazie. Chi vuole fare soldi a livello mondiale mettiamola proprio anche così viene a vendere deve venire a vendere l'Europa e deve conformarsi con le nostre con le nostre regole. Eh Sauro grazie. Eleonora Rizzuto e poi chiudo con Eleonora Evi. Ehm le vorrei chiedere il consumatore ehm come si pone in tutto questo percorso eh che è richiesto alle aziende e alle imprese per andare verso l'economia circolare. È è in grado di rinunciare a ciò che costa meno per andare tutti in questa direzione e le nuove generazioni sono davvero pronte sono noi siamo flessibili noi vecchie generazioni voglio dire a fare tutto questo. Allora dunque il consumatore ehm in generale eh è propenso a fare qualcosa nei confronti del di cambiare il modello e quindi di comprare dei prodotti che impattano di meno. Che cos'è che però riscontriamo? Una differenza a seconda del settore merceologico. Ad esempio se parliamo dell'agri food dei prodotti diciamo ehm per la nutrizione abbiamo una propensione maggiore rispetto all'acquisto di altri prodotti anche a pagarli di più abbiamo visto negli anni passati l'approccio nei confronti della produzione biologica. Per altri invece settori merceologici non è così eh accentuato. Il problema è l'accesso alle informazioni. Anche se anche in questo l'Unione Europea ha fatto dei progressi e dei passi da gigante negli ultimi dieci anni. Se io penso quando ho iniziato questa professione più di vent'anni fa siamo veramente agli abissi. Non non c'era nessun tipo di legame tra prodotto ecco design e quindi il pensare all'inizio di una produzione rispetto poi al fine vita. Non esistevano questo tipo di considerazione. Oggi il consumatore ha un approccio diverso ma purtroppo anche qui debbo lamentare una certa lentezza ad avere tutte le informazioni e sussidi tra virgolette ho fatto l'esempio dell'IVA agevolata per poter anche per le classi meno abbienti accedere a questo tipo di scelta. Il giovane si colloca in una postazione diciamo del consumatore molto particolare. Perché? Per due motivi. Primo perché parte il giovane ora alla vita e quindi ha una capacità di spesa ridotta e quindi preferirà soprattutto quando muove i primi passi verso una certa autonomia finanziaria a spendere di meno. Secondo perché il giovane è protagonista, è stato il protagonista delle stagioni dei Fridays for Future. Quindi attribuiamo al giovane una capacità di analisi maggiore rispetto alla nostra generazione sicuramente. Hanno operato degli scioperi per il clima lanciati chiaramente come tutti sappiamo dalla studentessa Greta Thunberg ma poi sono stati dopo questo travolgimento travolti in una partecipazione attiva in un certo senso c'è una abbiamo visto c'è una sorta di lacuna tra quello che può essere una riprendiamoci il pianeta transitiamo verso il modello circolare difendiamo il clima a una progettazione diciamo e a uno scetticismo ecco chiamiamolo così maggiore quindi dobbiamo fare qualcosa assolutamente per colmare questa lacuna. Dottoressa Rizzuto voglio lasciare gli ultimi cinque minuti a Eleonora Evi. Prima ancora prima ancora però vorrei dare i risultati di questo sondaggio. Abbiamo chiesto a chi ci seguiva se ritenga che l'Italia abbia gli strumenti anche culturali per cogliere le opportunità dell'economia circolare. Hanno risposto in sì il 63 per cento. Ha risposto di no il 37 per cento. Non c'è nessuno che non ha un'idea in merito. Allora Eleonora Evi c'è una questione che vorrei riprendere dal dibattito che abbiamo fatto. Mi sembra che l'abbia la posta uno dei nostri interlocutori credo Stefano solo cioè evitare una desertificazione dell'Europa se si mettono troppe regole evitare che poi si vada da un'altra parte a produrre e a fare tutto il resto. C'è la possibilità voi sedete al Parlamento europeo di monitorare perché tutto ciò non accada. Ma certo assolutamente ed è il motivo per cui proprio spingere sull'economia circolare è esattamente fa parte della soluzione per evitare questa desertificazione che voglio dire e ripeto ha assolutamente la sua ragion d'essere nel costruire una economia che sia basata sul recupero e riutilizzo delle risorse per evitare di a minor costo come è stato giustamente ricordato per garantire invece il benessere qui in Europa e tutte le valutazioni di impatto parlano molto chiaro si crea benessere con l'economia circolare si creano posti di lavoro le valutazioni sono fatte dalla stessa commissione europea sono chiarissime i 700 mila posti di lavoro solo nell'economia circolare la dicono lunga di quanto dovremmo accelerare su questa strada mi sorprende che il governo italiano in particolare il ministro per la transizione ecologica cingolani il ministro giorgetti abbiano nel commentare il pacchetto fit for 55 abbiano fatto dichiarazioni di grande preoccupazione allerta io ricordo che il ministro cingolani ha definito la transizione ecologica da lui stesso guidato bagno di sangue ma non è non è questo il modo di affrontare invece quelle che sono delle opportunità poi è in dubbio che ci saranno dei contraccolpi nessuno si deve nascondere dietro un dito questo è evidente il settore delle fossili è un settore che sta andando a morire e quindi è necessario che ci sia un accompagnamento una transizione una il famoso reskilling dei tutti i lavoratori che sono occupati in quel settore ma il saldo finale netto è positivo in termini occupazionali noi come verdi europei al parlamento europeo abbiamo fatto una abbiamo chiesto commissionato uno studio a Cambridge econometrics sulla valutazione d'impatto proprio su un target di riduzione delle emissioni più ambizioso al 2030 in particolare si parlava appunto del 60 per cento di riduzione di gas serra al 2030 nell'ambito della climate law il risultato è sconvolgente ovvero più posti di lavoro la creazione di un milione di posti di lavoro grazie a maggiore ambizione climatica proprio perché si vanno a creare posti di lavoro nelle rinnovabili nell'efficienza energetica nella nell'economia circolare e faccio un altro esempio molto semplice molto chiaro l'ultimo uno studio piuttosto datato ormai che calcolava come per 10.000 tonnellate di rifiuti si creano un posto di lavoro nell'incenerimento sei posti di lavoro nella discarica 36 posti di lavoro in un impianto di riciclo e 296 posti di lavoro nell'intera filiera della della riparazione del del recupero ecco questa è la strada che chiarisce in maniera univoca eh quelle che sono ehm quelle che sono appunto le ehm le quella che la strada da intraprendere grazie anche a lei grazie a tutti quindi grazie a Eleonora Evi deputata europea Commissione Envi grazie a Maria Alessandra Gallone senatrice e segretaria della Commissione Ambiente grazie a Eleonora Rizzuto presidente dell'associazione dell'economia per lo sviluppo dell'economia circolare e grazie a Stefano Soro della Commissione Europea capo dell'unità verde economia circolare io sono Ruggero Po giornalista componente dell'ASVIS alleanza per lo sviluppo del per lo sviluppo sostenibile ci sarebbero tante altre cose da dire magari ci ritroviamo abbiamo lasciato fuori completamente il settore delle costruzioni e anche qui di posti di lavoro e di edifici da rimettere a posto ce ne sono grazie a tutti ci fermiamo qui grazie a tutti